Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video, un video di vigilia perché domani si gioca con Via Real e devo dire la verità abbiamo tante cose da dire, tante cose di cui parlare, inizierei veramente perché abbiamo da analizzare le parole di Locatelli e quelle di Massimiliano Allegri hanno parlato per tantissimo tempo, quasi mezz'ora di conferenza stampa, io non ho idea di quanto potrebbe venire lungo questo video quindi iniziamo subito, prima di tutto ovviamente vi invito a scaricare OneFootball perché di formazione non si è parlato, Allegri ha dato qualche indicazione però bene o male è ancora tutto aperto quindi scaricate OneFootball, link qui sotto in descrizione oppure QR code e domani con OneFootball potremo seguire gli aggiornamenti minuto dopo minuto di una partita che vedrò dare a Juventus Stadium e questa sarà ancora più ansia perché io ho già un'ansia addosso che la metà basterebbe Locatelli, oh ragazzi ho visto un Locatelli dritto, quadrato, che sapeva esattamente cosa rispondere, come rispondere, veloce, Locatelli si è sbrogliato veramente in fretta, dato delle risposte secche e ti ha fatto capire che è veramente già concentrato per questa partita Locatelli la mette tanto non sul profilo tecnico tattico, te la mette sul piano dell'atteggiamento, dice parola chiave della gara atteggiamento, fame di vincere per portare a casa la vittoria prima parola di Locatelli ragazzi è una firma onorevole, vincere, stop, abbiamo fatto passi in avanti come gruppo, siamo uniti e siamo felici poi parla della sua nuova posizione e dice mi trovo bene, qui posso attaccare gli spazi, ho già fatto una breve analisi su Locatelli e sul ruolo di Mezzala, di come lo sta interpretando nelle pagelle di Sampdoria e Juventus, eventualmente vi rimando a quel video per andare a capire un po' di cose, Locatelli dice una cosa molto molto saggia e cioè mi ha colpito la mentalità della Juventus quando arrivi qui o ti adatti o alla Juve non ci puoi stare e questo ti fa veramente capire che Locca ha veramente inquadrato quella che è il modus, la vita di un tesserato della Juventus e anche la vita di come approcciamo noi tifosi, no? La partita della Juventus, la stagione della Juventus c'è un certo tipo di mentalità e quella non può venire meno mai, guai a Dio, nel momento in cui questo tipo di mentalità verrà meno la Juventus andrà a perdere tanto del suo potenziale, del suo appeal, della sua energia, della sua storia, della sua fede, del suo DNA la Juventus è questa roba qui, che si presenta a queste partite con una sola cosa in testa, vincere, andare avanti non importa il resto, vogliamo provare a vincere, nonostante tutto, nonostante una stagione strana, nonostante un livello di squadra particolare nonostante quello che volete, nonostante il gioco, tutto quello che volete, domani vincere, domani vincere e andare avanti e andare ai quarti di Champions tra l'altro Locatelli dice una cosa che mi stupisce perché il mister chiede sempre di giocare, di avere un atteggiamento propositivo Locatelli dice, Allegri ci chiede un atteggiamento propositivo e di occupare bene gli spazi tante volte, magari questo non sembra, magari tante volte i giocatori non lo fanno però Locatelli dice, il mister ci chiede di farle queste cose allora perché tante volte non lo vediamo? punto di domanda, provo a rigirare un po' voi anche questa domanda qui Locatelli è anche molto umile perché dice, devo fare qualche gol in più mi sembra che fino adesso non sia assolutamente male il suo score di reti realizzate devo avere più continuità nella partita o ancora tanto sotto cui migliorare in via real è una squadra forte, è una squadra tecnica, dobbiamo stare molto attenti servirà una partita matura e poi dice, la musichetta della Champions, prima che inizi la partita cavolo, quella è emozione e ancora, siamo la Juve, dobbiamo pensare a vincere ogni partita musica per le mie orecchie, altro che quella della Champions Locatelli che parla e dice queste cose qui abbiamo rivisto la partita, sappiamo cosa dobbiamo fare lo stadio della nostra parte, certo che sì, dobbiamo essere determinati ad ogni imprecisione in Champions rischi di prendere gol queste partite qui non ti puoi permettere nulla Arturo è un bravissimo ragazzo, calciatore forte e con cui mi trovo bene a centrocampo e domani rivedremo verosimilmente ancora insieme dal primo minuto a questi livelli qui serve responsabilità ragazzi, le parole di Locatelli che vi ho riassunto in un paio di minuti sono parole da veterano, non da giocatore che ha la prima esperienza con la Juventus è la prima esperienza nella partita di ritorno e eliminazione diretta degli ottavi di Champions League queste sono parole da uno che le ha già giocate queste partite, ha già vissuto questi momenti io di Locatelli sono rimasto sorpreso proprio per questo sembra giocare alla Juventus da anni invece è il primo anno alla Juventus e fino adesso secondo me ha fatto una stagione di altissimo livello e può migliorare ancora probabilmente, può dare ancora di più magari a partire domani sera, un gol del Locke che ci manda avanti sarebbe tanta roba e poi arriva Allegri, Locatelli determinato è Allegri sereno, rilassato e deciso questa è quella che ho visto in Massimo di Allegri una tranquillità, sembrava che domani dovesse andare a fare una scampagnata, un picnic Nick, zero tensione, sicurezza, decisione nelle risposte, fermezza un Allegri in ottimo stato che prosegue la falsariga dell'essere aggressivo come l'altro giorno con la Samp è il momento decisivo della stagione lo ripete ancora una volta, più di una volta e sottolinea tante volte vincere, 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 vincere Locatelli, Allegri, vincere il riassunto, la parola chiave di questa conferenza stampa è vincere, e allora speriamo e allora speriamo che possa essere una vittoria perché ragazzi, non prendiamoci in giro non prendiamoci in giro è tre anni questo è il terzo anno che proviamo ad andare ai quarti di finale due volte abbiamo fallito con Cristiano Ronaldo che è il miglior marcatore della storia della Champions League miglior marcatore della storia del calcio e con Cristiano Ronaldo non ci siamo arrivati ai quarti questo ci dà la dimostrazione che non è uno non è quello per quanto quello ti possa dare una mano ti possa aiutare se non c'è gruppo, non c'è squadra quello che ha detto Locatelli quello che ha rimarcato Allegri non puoi sperare e quest'anno ci presentiamo con il dilemma opposto è vero che non c'è Ronaldo c'è Vlaovic che mangia ancora di pasta asciutta per inventare Cristiano Ronaldo forse nemmeno ci arriverà mai anzi probabilmente nemmeno ci arriverà mai però siamo più squadra siamo assolutamente più squadra Allegri dice ho le idee chiare sulla formazione la squadra sta bene siamo in un bel momento e ancora parole musica di Massimo Emiliano Allegri è il momento decisivo della stagione dobbiamo arrivare alla sosta nei migliori condizioni possibili di classifica e di Champions League poi fanno una domanda molto interessante inerente alla finale di Champions si chiedono ci sei già arrivato due volte questa squadra può arrivarci ancora e Allegri dice dà una risposta anche abbastanza democristiana se vogliamo però interessante non so se questa squadra ha le qualità per arrivare in finale di Champions ma serve avere l'ambizione di volerci arrivare tradotto magari questa squadra non è una squadra che farà finale di Champions che può fare finale di Champions ma i ragazzi hanno l'obbligo e il dovere di puntare sempre al massimo a inizio anno dobbiamo puntare sempre al massimo obiettivo poi possiamo non arrivarci ma serve pensarlo ed è per questo che io lo ribadisco lo ripeto io non posso assolutamente credere che Massimiliano Allegri non stia pensando di poter vincere lo scudetto Massimiliano Allegri ci pensa e da mesi probabilmente anche in una situazione tragica disastrosa così come ci credono i calciatori ce l'ha detto Di Bala ce l'ha detto ce l'ha detto Morata l'altro giorno Chiellini addirittura ha parlato loro ci credono loro ci credono io no io sono un po' più stronzo e non credo nella vittoria della Champions nella vittoria dello scudetto ma il sogno c'è sempre quello c'è sempre che è un po' quello che dice Allegri l'ambizione l'ambizione di dover arrivare fino in fondo ce l'ho in tutte le competizioni poi che possa credere effettivamente di vincere questo è un altro discorso però è una risposta che mi piace per caricare l'ambiente e dare consapevolezza alla Juventus domani una finale aia secca mi sto toccando da giocare in casa bisogna vincere perché noi le finali europee non proprio bene loro invece soprattutto una Emery un po' meglio però è vero il pareggio dell'andata ti impone di analizzare la partita di interpretare la partita come se fosse effettivamente una finale speriamo speriamo assolutamente Chiellini Di Bala e Bernardeschi a disposizione speriamo di risolverne i primi 90 minuti se non ne servano 120 con i supplementari questi tre non hanno i 90 minuti nelle gambe possono essere ottimi cambi verosimilmente Allegri ci sta dicendo Chiellini Di Bala e Bernardeschi non titolari ma in panchina e poi entreranno per dare quel qualcosa in più io l'ho tradotta così l'ho letta così poi domani e anche su OneFootball avremo la possibilità di aggiornarci su quelle che saranno le ultime indiscrezioni sperando di poter fare una buona partita invece Bonucci out problema polpaccio problema polpaccio anche per Alexandro se lo sentiva strano per precauzione non sarà convocato Zaccaria forse torna in gruppo giovedì quindi a disposizione contro la Salernitana se no ci riaggiorniamo dopo la sosta Gioca Vlaovic l'unica certezza di formazione che ha dato Allegri questo Gioca Vlaovic non è detto che giochi pure Morata e allora se Dybala non dovrebbe partire dall'inizio punto di domanda Moise Ken Ken Vlaovic attacco del 2000 dal primo minuto in Champions League sarei stupito molto stupito di vedere questa cosa soprattutto perché Morata viene da tre gol nelle ultime due partite in uno stato di forma molto molto importante nelle gare mettere dentro di Bale e Morata avere di Bale e Morata come cambi sicuramente non sarebbe male però mi aspetto Morata comunque dal primo minuto vediamo poi Allegri dice non toglierei né gli infortuni di tutta la stagione né i primi tre mesi perché tutto quello che è accaduto è servito per arrivare a questo punto per creare questo momento e questo gruppo tutto quello che ci è successo ha dato la possibilità di arrivare adesso in queste condizioni e quindi mi tengo stretto tutto abbiamo un gruppo granitico eppure non abbiamo ancora fatto nulla dobbiamo pensare a domani non andare troppo avanti se perdi equilibrio poi ti fai male non bisogna avere sbalzi d'umore e non parla di equilibrio in campo che non si possa mettere due punte tre punte quattro punte no ti parla di equilibrio mentale troppi voli Icaro che vola vicino al sole Shisho Galeale boom muore non pensiamo troppi in avanti pensiamo che domani giochiamo col Vida Reale dobbiamo andare ai quarti di finale di Champions poi tutto il resto partita dopo partita questo è il mantra di Massimiliano Allegri ci sta dicendo questa cosa dice una grande squadra arriva a marzo come siamo arrivati noi che deve giocarsi tutte le competizioni noi siamo qui a marzo che siamo dentro tutto una finale di Coppa Italia da raggiungere dopo aver vinto l'andata della semifinale i quarti di Champions da raggiungere dato che abbiamo pareggiato gli ottavi domani giochiamo in casa una lotta scudetto nei quali probabilmente saremo osservatori interessati ma 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 noi preoccupiamoci di vincerle tutte poi vediamo che cosa succede siamo ancora bene o male dentro tutto c'è un percentuale vedo molto probabile una Juventus in finale di Coppa Italia vedo poco probabile una Juventus in finale di Champions vedo poco probabile una Juventus prima a fine campionato però intanto giochiamo c'è la partita dopo partita non importa andare troppo in là con l'immaginazione pensiamo che domani col Villareal sarà tosta perché ragazzi sarà tosta lo dice anche Allegri sarà una partita complicata difficile ci sarà anche momenti in cui dovremo difendere sì apro parentesi però anche attaccare che non esiste solo il momento in cui difendi esiste anche il momento in cui attacchi il calcio è fatto di fasi possesso non possesso transizione devono esserci tutte non una sola non due devono esserci tutte sennò la partita non è mai completa Allegri dice sono arrivato con due anni fermo sono stato fermo due anni una squadra che aveva giocatori che non conoscevo abbiamo fatto degli errori tutti io compreso ci siamo ripresi però questo non basta più perché a marzo bisogna essere diversi da quelli che si è stati da settembre a febbraio è vero e lo ribadisco Allegri da due conferenze stampa a questa parte ha alzato il livello ha chiesto alla Juventus basta quello che abbiamo fatto fino adesso è stato una specie di rodaggio adesso bisogna raccogliere i frutti adesso bisogna veramente dimostrare di essere la Juventus punto il resto non conta all'andata sembravano usciti dalla partita gli avversari abbiamo fatto un errore e sono tornati dentro che è un po' quello che ho ripetuto dopo la Sampdoria perché l'unica cosa che mi interessava di quella partita lì era non far tornare dentro la Sampdoria per via di errori nostri e l'abbiamo fatto che è stata la stessa cosa che è accaduto in Champions in Spagna con Villareal non dobbiamo farlo l'unica cosa che chiedono a Juve domani sera è questa non far tornare dentro alla partita una squadra per demeriti nostri se torneranno dentro devono meritarselo sarò il primo ad applaudire a dire oh bravi loro noi abbiamo demeritato loro sono andati avanti meritatamente ma non dobbiamo autodistruggerci dobbiamo avere la lucidità di non commettere questi errori ha detto anche Locatelli a questi livelli responsabilità alta ti puniscono l'imprevisto è sempre la storia del PSG con Real che ha dominato il PSG eppure va avanti il Real perché? perché il PSG esce dalla partita Allegri lo descrive come imprevisto trattiamolo come imprevisto e va avanti il Real e questo è quello che conta alla fine questo è quello che conta non che il PSG ha dominato andata e ritorno l'andata molto di più dove il Real si è solo difeso alla fine è andata avanti il Real e a me non me ne frega niente di dover sentire domani eh c'è dominato qui e là ma siamo andati avanti noi bene siamo andati avanti noi questo è quello che mi interessa questo è quello che mi interessa poi se c'è la possibilità di dominare via Real sarò ancora più contento perché lo stadio sarà una bolgia sarò lì la vedrò in diretta la vedrò dal vivo mi godrò 90 minuti di calcio della Juventus e alla fine andremo pure avanti a me non voglio mica uscire ma io non voglio mica uscire ma guai 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 uscire guai uscire dobbiamo giocare la partita con un unico obiettivo dice Allegri passare il turno cioè non c'è altro domani c'è passare il turno e poi dice da come siamo partiti tutte le partite ora sono delicate a marzo però è il momento del divertimento c'è da giocare e da vincere perché il palo diventa più piccolo e più pesante tradotto tirare fuori i coglioni la traduzione letterale di questa frase è questa Allegri dice io non ho preoccupazioni la squadra ha trovato una maturità vanno migliorate alcune situazioni di gioco nella metà campo degli avversari sì lì andiamo ancora male molto male e dobbiamo migliorare e io non so nemmeno se miglioreremo da qui alla fine dell'anno quindi insistiamo sulle cose che sappiamo fare noi giochiamo una partita psicologica non solo tecnica non solo fisica psicologica perché noi siamo una squadra forte sotto il profilo psicologico se riusciamo a rimanere dentro la partita riusciamo a distruggere dentro la testa gli avversari ce la possiamo fare quando si accorgeranno che tutto quello che sanno fare loro diventa inefficace contro questa Juve lì vinceremo la partita e dobbiamo dargli questa sensazione dal minuto zero dal riscaldamento fino a quando l'arbitro non fischierà il triplice fischio questo è quello che deve fare la Juventus domani sera questo perché sicuramente non sarà più brava del Villarreal a fare una partita spettacolare questo ve lo dico adesso ve lo do per certo ve lo firmo non è questa la partita che la Juventus dovrà giocare non è lì che si giocherà il passaggio del turno per la Juve per il Villarreal sì per la Juve no ci sono tanti altri elementi da mettere dentro alla partita serve grande rispetto per l'avversario perché la presunzione non ti porta a nessuna parte ancora una volta Massimiliano Allegri dice una cosa non banale siamo pronti per giocare la partita servirà anche un pizzico di fortuna quella non guasta mai la prendo sempre volentieri è la partita più importante della Champions fino ad ora non la più importante della stagione perché poi in Serie A in Coppa Italia ci saranno altre partite importanti sempre parole di Massimiliano Allegri United Emery allenatore esperto sarà una partita vera Pellegrini cresciuto molto da lui mi aspetta ancora di più dobbiamo fare una grande prestazione poi indipendentemente dal risultato il pubblico applaudirà i ragazzi su quest'ultimo punto su quest'ultimo punto cerchiamo di passare facciamo così non voglio pensare di dovermi mettere in quella situazione in cui dobbiamo applaudire da squadra che va a casa voglio mettermi nella situazione di applaudire da squadra che entra nelle prime otto di Champions League facciamo così facciamo così dai ragazzi forza Juventus e poi oggi pomeriggio registrerò con Killelello un altro video sarà interessante capire come la vedono anche loro domani saremo tutti insieme domani saremo tutti insieme domani saremo tutti insieme domani saremo tutti insieme domani saremo tutti à domani s aspettam